Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. E niente, da oggi vi faccio vedere la mia giornata come è stata al Golden Ring Show. In pratica è l'anello d'oro in italiano, se lo dobbiamo tradurre. Qui vediamo il nostro stand per Supreme, i nostri mix che stanno andando alla grande, grazie a voi anche, siete dei grandi. Ciao ragazzi, come va? Spero che tu va bene. Ecco ora, ora vediamo il nostro paico Dore, come ogni anno. Ci sono gente e città di bello ose Terra. Ci possiamo vedere un piccolo esempio di questa anno. Buongiorno alai, ragazzi, come fa? Vi chiedere, vi spero di farci e oggi. Sto oggi vi faccio offre una strade di una strade di khatemi. Il è una strade di al tuore, fantastico. come stai? bene bellissimi soggetti come sembra ecco qua scurati ragazzi colori bellissimi 多區 di domn non 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 mari non Grazie a tutti. Buongiorno, sono abbonato a vostra canzone. Ah, è bene, sono. Ecco, live. Grazie. Grazie a tutti. Guardate il posto. Ah, sì, sì, è bene. Abbiamo fatto una piccola video oggi per la ring. Ecco, ragazzi. Buongiorno. 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 Grazie. 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 Oggi sono anche che cosi C'è anche un pollo Ci sono anche una pizza Ci sono anche con una superficie Ci sono anche un pollo e qui anche E qui è un pollo La prima cosa è una cosa Perciò qui Ci sono questo E' un pollo Non c'è il numero? C'è il numero? Ah, questo. Questo è anche uno dei più amici. Questo non ha mai vera, è una prima parte. Ho penso. Questo è. Il medellario, o che è? No, non è? Il medellismo è un po' di stessa. E' un po' di stessa. E' un po' di stessa. Questo è anche molto facile Non è così difficile E' un po' ottobo E' un po' ottobo Un po' ottobo Un po' ottobo E' un po' ottobo E' un po' ottobo Diciamo la cittura È così speciale Creme Ma che bella, è molto più difficile Che è davvero molto difficile Un po' è un po' è un po' è molto più difficile È un po' è molto molto Sì, questo è davvero bello. Questo è davvero bello. Questo è davvero molto più facile. Non è molto facile. Sì il tennino Sì La fatta La fatta Questa è la fatta La fatta Sì Questo è il pergambolo questo è un spettino ora, non è il punto di riparza non c'è tutto il punto di riparza In un l'altro lato che è stato un po' di riparza Un po' di riparza Un po' di riparza Non c'è un po' di riparza Un po' di riparza Non c'è questa questa guarda 4 6 4 4 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 21 21 22 21 22 23 23 22 22 22 22 22 23 22 23 25 22 22 22 22 22 23 23 22 23 23 24